La crisi economica e finanziaria non risparmia la terra e il mondo dell'agricoltura è chiamato a dare prova di solidarietà, condivisione e profondo senso di responsabilità. Il Papa riceve in udienza i partecipanti all'Assemblea Nazionale Coldiretti e in fondo è coraggio nei coltivatori che negli ultimi anni hanno visto il loro reddito crollare. Se è vero che alla base dell'attuale difficoltà economica vi è una crisi morale, per Josef Ratzinger bisogna adoperarsi tutti e con sollecitudine perché l'etica mantenga il primato su ogni altra esigenza. È necessario, ribadisce il Pontefice, intervenire alla radice della crisi, favorendo la riscoperta di quei valori spirituali dai quali poi scaturiscono le idee, i progetti e le opere. Ancora una volta dunque per il Papa l'etica è la chiave di volta, soprattutto quando in gioco è il futuro delle nuove generazioni dalle attese cariche di propositi e speranze. Ma per Josef Ratzinger tutti devono fare la propria parte, anche gli imprenditori che devono svolgere un ruolo ben delineato. Quello di esigere e promuovere valide politiche sociali in favore della persona e della sua professionalità e di agire con senso di responsabilità nei confronti del mondo agricolo. Solo così, sottolinea il Papa, il bene è comune, la dignità della persona, l'onestà e la trasparenza nella gestione dei servizi diventano i mattoni per la costruzione di una società giusta e a misura d'uomo. Grazie. Grazie.